A livello industriale poi ci sono una serie di vertenze che rimangono aperte, importantissima quella dell'Ilva, ma anche l'Alcoa di Portovesme, siamo in Sardegna, l'Alitalia, Almaviva, insomma un sacco di situazioni aperte che analizzeremo oggi in maniera più possibile completa con Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL. Grazie, buongiorno. Simone Bagnacani, buongiorno. Buongiorno, qui a Portovesme la parola d'ordine è ancora prudenza perché abbiamo questo accordo di programma, c'è questa data il 15 febbraio entro cui dovrebbe arrivare la cessione, ma sono passati 5 anni dall'ultima volta che la fabbrica ha effettivamente prodotto alluminio primario. Quindi tra i lavoratori dell'azienda c'è ancora la sensazione che è meglio aspettare per poter cantare vittoria e praticamente ci sono 400 i lavoratori che dovrebbero rientrare e finalmente vedono una luce in fondo al tunnel dopo 5 anni e tantissimi investitori che si sono fatti avanti e sono tornati. Chiediamo anche a Bruno Usai che è un rappresentante sindacale della FIOM come sulle sensazioni in questo momento. Buongiorno a tutti, le sensazioni sono quelle di... siamo vicini a un traguardo però ancora non l'abbiamo raggiunto. Finalmente però ci sono le condizioni per produrre alluminio nel nostro paese così come si possono produrre altre produzioni importanti visto che c'è una legge che riduce il costo dell'energia. E proprio per il costo dell'energia noi abbiamo chiuso qualche anno fa. Quindi c'è stata questa legge che ha cambiato un po' le carte in tavola e permette forse di tornare. A voi da linea. Sì, rimani con noiissimo. Grazie. Allora, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo. Facciamo conto che tutto sia stato già risolto, anche gli ultimi dettagli. Che cosa significa per il nostro paese l'apertura di uno stabilimento come quello di Portovespa? Ma intanto questa vicenda era partita con il governo di allora che aveva detto che la produzione di alluminio in Italia era strategica. Dopo averlo detto, un anno dopo è cessata completamente la produzione di alluminio. Non so se porta male la parola strategica. Ma forse alluminio. Di fatto, come dicevano i ragazzi a Portovesme, che ricordo a tutti, sono lì in presidio davanti alla loro fabbrica da cinque anni. Di fatto l'Italia non produce più un grammo di alluminio a livello primario. La ripartenza è un dato positivo, intanto perché Alcoe è stata considerata la vertenza più dura. Io la seguo dal 2008 e molti ministri dissero proprio che è impossibile, arrendiamoci, troviamo un'altra soluzione. Con il tipico benaltrismo italiano per cui l'altra soluzione non c'è mai. È qualcos'altro che non si vede mai. Ripartire con la produzione di alluminio è importante perché il nostro paese, e qui mi ricollego anche all'Ilva, è povero di materie prime. Se diventa assolutamente assente nella produzione siderurgica di acciaio e di alluminio, che sono il primario dell'industria... Cioè, deve rivolgersi altru. Esatto, no, perde sovranità industriale. E questo è un problema molto serio. Tra l'altro questa realtà è straordinariamente importante perché il Sulcis è la provincia più povera d'Italia. Fino adesso ai ragazzi, alle ragazze del Sulcis, i vari politici hanno promesso tanto. In realtà la vera proposta era la valigia per la migrazione verso altri posti. Ripartire dall'Alcoa, ripartire con la produzione, con il laminatoio successivo che verrà insediato lì nello stabilimento, è sicuramente un dato positivo per quella vertenza che ripaga gli sforzi di chi non si è mai rassegnato in tutti questi anni. Ma soprattutto riaccende la speranza per le tante altre vertenze che non si sono chiuse in questo Paese. Questo le volevo chiedere. Cioè, una vertenza molto dura, come ci ha detto, ma anche una collaborazione, poi finalmente, fra governo e sindacati, che potrebbe essere un modello, per esempio, sulla situazione dell'Ilva? Chiedo, eh. Assolutamente sì. Noi abbiamo avuto lo stesso tipo di atteggiamento di concretezza. Questo è importante. Quando si ha a che fare con le istituzioni, con la pubblica amministrazione, si ha a che fare spesso con tempi disumani. Tempi di soluzioni che sono non alla portata della vita di ognuno. E per questo è importante, e noi abbiamo accolto molto positivamente, che il Ministro Calenda alla vigilia di Natale è stato con i ragazzi, lì in presidio, gli ha dato speranze. Questo è molto importante per avere uno Stato, un governo vicino alle persone. Noi abbiamo in piedi tantissime altre vertenze. Si vede nella grafica la tuta ex Lucchini dei lavoratori di Aferpi, di Piombino. Lì c'è molto ancora da fare. C'è la vertenza Ilva, che sembra irrisolvibile. Invece ci sono tutte le strade, ma anche lì serve collaborazione. Se si assiste invece allo scontro tra le istituzioni, si cerca di trascinare la vertenza industriale dentro la campagna elettorale, sarà un disastro. Più sarà lontana dalla campagna elettorale, più i lavoratori avranno speranza. Lo comprendiamo. Senta, è inizio d'anno, e insomma vale la pena, come lei sta giustamente facendo, di fare un attimo il quadro generale della situazione, perché come lei diceva, non c'è soltanto l'alcoa, alla quale auguriamo di risolvere al più presto la vicenda, ma ci sono anche tante altre vertenze aperte. Le ne ho citate alcune, ma resta in piedi per esempio anche all'Italia. Sì, non è il settore che seguo, io seguo i metalmeccanici, però sono tutte con la stessa dignità e necessità di soluzione. Il problema è che se si rinviano continuamente le soluzioni strutturali, si vive di rattoppi, i lavoratori restano col piatto sospeso, le situazioni non è che si risolvono da solo, si incancreniscono e diventano più dolorese le ricette di soluzione. Questo è successo con Alcoa, per ritornare ad Alcoa, non è che è nata ieri la vertenza. Lei l'ha seguita nel 2008. La questione degli aiuti di Stato è nota da tantissimo, da quando Bersani era ministro dell'industria, allora si rattoppò un po' la situazione e siamo arrivati alla chiusura dello stabilimento. In tutte le realtà bisogna capire che serve, io non la chiamo una politica industriale, ma una politica per l'industria. Noi troppo spesso abbiamo politici che non sanno nulla di industria e nulla di lavoro e questo è un dramma perché si vede che quando cerchiamo di costruire insieme a loro le soluzioni sembra di parlare in un'altra lingua. Beh, Franco ha citato l'Alitalia, alla quale manca ancora un partner strategico economico che voglia investirci su o comunque sia disposto alle condizioni proposte. Però lei ha anche nominato la Lucchini di Piombino e lì c'è stata un'azienda algerina, l'Alcoa con un'azienda svizzera, quindi forse è anche l'occasione per rendersi un po' più appetibile al mercato estero, sburocratizzare e cercare in qualche maniera di mediare non soltanto con il governo ma anche con l'investitore straniero. Assolutamente. Il nostro paese è famoso per non essere un habitat favorevole per le imprese e questo non attira investitori esteri. è sicuramente utile, per esempio nel caso di Alcoa il decreto sugli energivori è stato utile a riportare e è stato utile, io aggiungo, un atteggiamento della regione Sardegna più propenso, più costruttivo per cercare di fare le opere infrastrutturali che gli americani della prima Alcoa avevano richiesto dal 1995. È chiaro che la dialettica e la dinamica di litigio con la regione Puglia in Ilva non sta attraendo investitori. Allora, torniamo per un minuto, soltanto un minuto a Portovesme da Simone per sapere quali saranno i prossimi passi. Allora, il prossimo appuntamento è per la settimana prossima l'11 gennaio a Roma dove ci sarà l'incontro tra i sindacati e la nuova azienda per cercare di capire i tempi ma li chiediamo a Renato Tocco della Wilm quali sono i tempi per una possibile riapertura? Buongiorno a tutti. Noi ci auguriamo che entro un anno ci sia una produzione piena e credo che i lavoratori entreranno a lavoro ci auguriamo entro poco tempo i primi lavoratori come attentori, come elettricisti e poi in piena produzione ci auguriamo tra un annetto che si riprenda a produrre pienamente. I nostri migliori auguri, Simone stendili a tutti quelli che sono lì con te in bocca al lupo. Grazie anche a lei, grazie anche a Marco Pettivoglio. E allora adesso dobbiamo la linea al TG1, ci rivediamo subito dopo.